Quelli dell'assicurazione, sei un assoluto? L'assicurazione? Eh, ma sì, perché... E io, l'avvocato... Ok, d'accordo. Ciao, un secondo solo, allora... Avvocato, arrivederli. Arrivederli. Buongiorno. Grazie, avvocato, grazie. La volevo ringraziare di cuore per i fiori meravigliosi che ha messo sulla tomba di mio marito. Non si doveva disturbare tanto. E immagino anche che le siano costati un capitale. Ah, ci figuri, signora. Grazie. Tanto non si muore tutti i giorni. Via. Lo consideri piuttosto un investimento? Sola? Adesso deve tornare a casa, no? Suffrisce, gradisce.